Buongiorno a tutti. Oggi ci soffermiamo sulle sintesi che offre il quadro di riferimento della pastorale giovanile salesiana nella terza edizione del 2014. Dopo tutto il percorso che abbiamo fatto dalle prime generazioni dei salesiani, la famiglia salesiana che evolveva fino a questo punto. Una nota previa, vorrei vederlo insieme con voi, un po' attorno al sistema preventivo di Don Bosco, che è anche il titolo del capitolo 4, e anche in una logica sia di capitoli, che potrebbero essere la divisione, diciamo verticale, divisione, piuttosto delle coordinate. E poi anche una divisione o una lettura di livelli. Ragione, ragionevolezza, razionalità delle sue applicazioni, l'amorevolezza e ambito relazionale. Intanto poi è di base in profondo anche l'aspetto fondante e importantissimo della religione, della spiritualità e della fede. Le sintesi fondamentali si trovano nel capitolo 4, 5 e 6, però ci sono anche degli antecedenti. Siccome è una sintesi di tutto il percorso che abbiamo fatto all'interno del corso di pedagogia salesiana, andiamo a vedere anche queste sintesi. Eccoci. Partiamo proprio da Don Bosco e poi vediamo alcune sintesi postconciliari illustrate con delle lettere dei rettormaggiori. Una chiave importante di lettura della storia salesiana, anche storia della pedagogia salesiana, è che ogni produzione di un testo, come potrebbero essere per esempio le memorie dell'oratorio o gli scritti sul sistema preventivo, le costituzioni salesiane, evolvono in un contesto di alcuni decenni che si susseguono e creano anche una mentalità e vanno interpretati e capiti dentro quel contesto. E quindi si può capire come le memorie dell'oratorio di Don Bosco è un tornare indietro all'idea fondamentale dell'oratorio che Don Bosco racconta già partendo dalla sua infanzia, quindi dal nascere. E quindi l'oratorio festivo si collega anche a quelle prime intuizioni, anche la società dell'allegria, quasi questa compagnia, questa associazione di studenti di cui faceva parte Don Bosco, che era quasi come un inizio di una compagnia che poi funzionavano sia nel collegio che nell'oratorio. Poi evolvono le opere educative e le strutture anche si susseguono all'interno dell'ambiente di Valdocco, Valdocco l'oratorio paradigmatico, che poi però diventa un collegio. In anni sessanta diventa da un oratorio festivo il paradigma fondante collegio, quindi scuola, internato, molti ragazzi interni, anche un sistema che aveva un rischio anche di una certa rigidità e quindi il sistema preventivo, le costituzioni, le lettere ai salesiani d'America e anche e soprattutto poi la lettera da Roma sono all'interno di questo collegio salesiano. Poi ci sono altre evoluzioni che adesso non andiamo a ripetere tutte le lezioni fatte, ma vediamo invece alcune sintesi nel postconcilio. C'era la lettera programmatica sul progetto educativo salesiano nel 1978 con alcune sintesi importanti. I due binomi evangelizzare educando e quindi c'è una sintesi anche dei principi di attuazione che offre il rettor maggiore e poi l'educare evangelizzando. E quindi i due principi che sono complementari e che non sono solo un slogan che poi è vuoto di contenuto, ma ci sono anche delle concretizzazioni. In che senso funziona questo rapporto di simbiosi tra l'educazione e evangelizzazione non è un'equiparazione né linguistica né diplomatica del 50-50 tra educare che sarebbe la scuola e evangelizzare che è la parrocchia o educazione alla fede e piuttosto una vita che va letta sempre insieme. C'è poi un altro passaggio che è già molto più recente e quasi che conclude un po' l'agire di Juan Edmundo Vecchi e che è un intervento sulla comunità. Esperti testimoni artefici di comunione e parla della comunità salesiana che è nucleo animatore di una comunità più allargata. Quindi c'è proprio l'idea di una comunità aperta. Quindi la logica anche di un sistema sistemica che si anima alla vita che si diffonde in questo sistema. Quindi c'è la comunità salesiana, ci sono i diversi ruoli, ci sono i laici, c'è la comunità educativa pastorale, c'è il territorio. E quindi non andiamo subito al concreto, ma ci sono alcuni nuclei che sono importanti. L'importanza dell'identificarsi con la missione, il sistema educativo e la spiritualità salesiana, e poi il compito di convocare, motivare e coinvolgere tutti in un'opera. E quindi poi realizzare un progetto. E quindi, come abbiamo visto prima, l'idea di un progetto, ok, progetto una parola chiave per gli anni 70-80, e poi invece abbiamo l'idea di comunità. È forte, però è accentuata piuttosto poi dagli anni 90 in poi. Spesso anche come risorsa, ma anche come una sfida di vivere la comunità davvero da esperti, che significa anche una formazione di competenze. Testimoni, quindi con uno spirito di fede, identificati con la spiritualità salesiana, e anche artefici. Quindi farlo praticamente, essere animatori pratici di una comunità che funziona realmente nel mondo concreto, non ideologi di una comunità, di un principio di comunità. E invece alcuni accenti del terzo millennio che vanno attorno a un'idea di approfondimento anche spirituale, di non mediocrità, non superficialità. E quindi un discorso molto forte, anche interessante, anche sulla sulle radici del sistema preventivo della pedagogia salesiana, che si trovano nel rapporto anche con Dio. E poi da quello nasce anche la forza e anche delle virtù, che poi il rettor maggiore qui, diverse di queste virtù le menziona, per creare poi davvero una comunità che agisce, realizza, e si incontra attorno a un progetto. Quindi è un percorso, temporaneamente siamo arrivati dal progetto alla comunità e poi all'interiorità. Parliamo di accenti, chiaramente nel periodo di Toneggi di Vigano è presente tutto, però ci sono alcuni accenti che non sono neanche sempre suoi. l'epoca, il contesto, la storia umana, alcune regioni della congregazione o della famiglia salesiana che sono determinanti. È la demografia che incide, ovviamente. Quindi storicamente magari abbiamo fatto un percorso di approfondimento quasi, di andare verso la spiritualità. A livello più, diciamo, metodologico, se vogliamo anche logico o di fondazione, si potrebbe andare in un processo inverso. Un rapporto anche fondante, una vocazione. Come dice anche Don Bosco, per essere educatori nel sistema preventivo bisogna essere consacrati. E non è solo consacrati, nel senso religioso, di essere far parte di una congregazione, di un istituto, ma di avere un atteggiamento di donazione interiore, di spiritualità, comunità, progetto. Ok. Questi sono un po' gli antecedenti che spiegano però alcuni equilibri. Andiamo adesso a vedere un po' il capitolo quarto del sistema preventivo di Don Bosco. Tornando ancora a alcune sintesi, e integro qui le letture di Stella, di Braido e poi del quadro di riferimento. Molte cose ruotano attorno a un'idea di amorevolezza, che è molto tipica, una parola, potremmo dire, di fortuna, ogni tanto anche esasperata come principio, che quasi era un principio di forza per relativizzare un po' sia la ragione che era legata molto con alcuni aspetti di disciplina, che la religione legata magari a delle forme non sempre aggiornate, l'amorevolezza, la relazione, un po' una ideologia degli anni 80-90, se vogliamo. Poi c'è la religione che però, come dice anche Braido, è fondante nel sistema preventivo. Come l'amorevolezza è il principio più forte a livello di metodo, a livello di contenuti e di atteggiamenti che formano il ragazzo nel sistema preventivo, è la religione. Quindi anche una serietà dell'impegno morale, il dovere, pietà, vivere in grazia, e tutto questo è proposto poi comunque in base ai rapporti ragionevoli, amorevoli, quindi sempre un intreccio dei principi. E infine la ragione che per me ha tutto, quindi una ragionevolezza, un senso comune che dà un ordine che equilibra diversi elementi e che diventa poi anche uno stile di assistenza, ovviamente. Assistenza sarebbe quel modo di stare con i giovani, ragionando, facendoli capire che sono amati, amorevolezza, alimentato da uno spirito di fede, ma non solo, anche con degli interventi di evangelizzazione e quindi un confronto anche con il principio della religione. Qui potremmo collegare anche il discorso di educazione e evangelizzazione che si incontrano e vivono insieme nella riflessione postconciliare. Nell'idea di Don Bosco penso che l'equilibrio sarebbe tra la ragione e l'educazione classica e la religione. La modalità di come farlo è proprio amorevolezza e assistenza. E poi un livello molto più concreto che non è da trascurare. Non ci sono solo i tre principi, ci sono anche altre, non c'è solo ragione e religione amorevolezza, ci sono anche interventi, intuizioni concrete, metodi di insegnamento, oppure per Don Bosco concludere la sua sintesi sul sistema preventivo con i castigli. Adesso non perché sono più importanti, piuttosto perché era un'applicazione che era buona come un campo di dove far capire che il sistema preventivo e i principi possono entrare anche in una logica di dover fare delle differenze a un approccio personalizzato e anche in un campo che sarebbe quasi privilegiato del sistema repressivo. Invece poteva essere trasformato. Chiaramente non ha fatto applicazioni su altri campi molto più favorevoli, come potrebbe essere la ricreazione e presenza nel cortile. anche se poi uno degli ultimi pensieri sull'educazione più famosi è la lettera da Roma, dove proprio riprende quell'aspetto tipico della ricreazione della spontaneità. E il quadro di riferimento, andando in avanti nel quarto capitolo, rilegge questi principi e quindi c'è l'amorevolezza intesa come una forza liberante dell'amore educativo. Quindi non è solo un approccio che è da conquistare, ma deve essere alimentato da un amore che deve esistere, che è poi anche educativo, quindi ha anche degli obiettivi in mente e lavora per il bene del giovane, non solo per stare bene tra di noi, ma per un bene anche in prospettiva di futuro. Ragione, le diverse forme della ragionevolezza nelle proposte, quindi il principio di concretezza anche delle proposte. La religione, l'amore pedagogico è basato sulla fede e quindi la religione è anche come quel fondamento che alimenta le energie di un sistema educativo che, come dice Don Bosco, che non è il più facile per l'educatore e quindi si basa anche su un amore umano autentico. Quindi abbiamo alcuni principi del sistema preventivo di Don Bosco, abbiamo appena accennato, chiaramente il capitolo quarto del quadro di riferimento è più ricco, però voglio farvi vedere almeno un'attenzione ad alcuni principi che non sono rientrati in questo trinomio. C'è anche la familiarità, c'è l'ambiente preventivo. Sono alcuni principi che sono trasversali. Però vediamo adesso insieme, e poi concludiamo dopo aver percorso i tre capitoli centrali, facciamo poi una sintesi. Adesso il quinto capitolo sulla comunità educativo pastorale, che si potrebbe strutturare anche qui a questi livelli di lettura. Abbiamo tutta l'idea del nucleo animatore della comunità, della familiarità, che ruota attorno un po' più al principio dell'amorevolezza, alla relazionalità. C'è poi la religione come principio che forma l'identità degli educatori, e la ragione che è il principio legato anche alla gestione dei diversi ambienti. Vediamoli uno per uno. amorevolezza. Tutta l'idea anche della comunità educativo pastorale ruota attorno a questa circolarità tra missione e comunione. Siccome c'è la circolarità non è detto quale principio è il primo e il secondo. La comunità nasce anche da una chiamata di avere una missione comune, un progetto, nelle parole di Don Vecchi. E la missione si realizza attraverso la comunione di diverse persone, perché non siamo educatori solitari, c'è un carisma anche. E quindi la pastorale giovanile saresiana è un'esperienza comunitaria, dove c'è il nucleo animatore e quindi subito rientra anche una logica che non è una comunità pensata in astratto. Quindi un principio di accettazione, di comunità, di ambiente familiare, dove tutto può andare, no? Anything goes, come dicono gli inglesi, no? Quindi sarebbe una comunità molto liberale, soft e debole, infine. E anche c'è anche un'idea abbastanza concreta, perché una comunità perché funzioni, può essere organizzata gerarchicamente, è un modo, in un modo piramidale di responsabilità, di definizione dei ruoli molto rigidi. Invece l'idea nella pastorale giovanile saresiana è di avere un nucleo che anima, persone più identificate con la spiritualità, la missione, il progetto, che anima tutto un insieme di persone, tantissime, dove c'è anche la comunità sdb, collaboratori, chiesa nel territorio, famiglie, giovani. Chiaramente la comunità dei salesiani dovrebbe essere nel nucleo animatore, però non è il nucleo animatore, non è esclusivamente la comunità sdb, no? E questa comunità funziona con delle diverse modalità di presenza, no? Il nucleo animatore, la comunità educativa pastorale, poi un contesto più largo, attraverso animazione, assistenza e accompagnamento. È qui interessante di non fermarsi solamente all'aspetto della persona, perché spesso quando si parla dell'accompagnamento implicitamente si pensa a un accompagnamento personale di un educatore e di un giovane. È importantissimo anche accompagnamento spirituale, non solo le forme diverse educative di tutoraggio, di mentoring, di coaching e altri, ma è importante altrettanto l'accompagnamento di gruppi e degli ambienti. Perché se ci ricordiamo proprio l'esperienza fondante di Valdocco, di Don Bosco, c'erano sempre centinaia di ragazzi in alcuni periodi decenni, migliaia, che ruotavano attorno a una casa e quindi il solito metodo di accompagnamento personale non funziona. Però neanche una pura e anche povera, spesso, animazione dell'ambiente attorno a solo delle feste, alcuni appuntamenti. Quindi c'è una modalità integrata di presenza. La religione o l'identità dell'educatore, il cuore dell'educatore salesiano, così si esprime il quadro di riferimento. E il cuore qui, potremmo tornare a alcune sintesi di Pietro Stella, che non è una categoria solamente di tipo relazionale emotivo-affettivo. Il cuore è anche nel linguaggio biblico, è anche nel linguaggio di Don Bosco, è una categoria di fondo, di identità dell'uomo. Quindi avere un cuore buono o corrotto, o conquistare il cuore e conquistare la persona in sé, la fiducia della persona. Quindi il cuore è proprio l'identità. E c'è anche qui una circolarità. Ovviamente faccio una sintesi tra intelligenza pastorale e quindi partire anche da una situazione che viene vista con un'intelligenza. Quindi il cuore non è irrazionale, però sempre in funzione della crescita di tutti. Lettura della situazione, personalizzare tutti gli interventi, anche accompagnamento, anche personale. Non solo testimonianza, che si realizza anche attraverso la preghiera, parlare con e di Dio. evangelizzazione e preghiera, insieme. Tanti elementi ruotano attorno anche al Vangelo. Adesso non si può fare una sintesi anche di elementi fondanti, teologici e spirituali della pastorale giovanile. Però ruotano e si trovano qui attorno all'identità dell'educatore, che però non è solo identità del singolo. Si traduce a una presenza, amorevolezza e paternità che poi permea tutto l'ambiente. Quindi sempre nel retro del nostro pensiero è giusto pensare come i diversi principi si intrecciano e come si influenzano uno all'altro. E infine il principio della ragione, se vogliamo, che si concretizza poi anche nella gestione dei diversi ambienti. E quindi nel famoso criterio di discernimento e di rinnovamento postconciliare salesiano, chiamato Don Bosco nell'oratorio, che quindi è un criterio oratoriano, non è solo oratorio in sé, è oratorio di Valdorco, il luogo che ha visto l'evoluzione dell'agire e la crescita in santità e anche in educazione nella pastorale, nella spiritualità salesiana. Crescita di Don Bosco e dell'opera salesiana, della famiglia salesiana. E quindi ci sono alcuni accenti più forti dell'evangelizzazione che si realizzano in parrocchia, alcuni accenti che si realizzano in scuola, che avvia la vita dalle competenze concrete e in relazione con il mondo circostante, con le possibilità di lavoro, con anche un accento anche sui diritti umani, per esempio, che è un accento interessante, anche di Don Pasquale Chávez, che parla molto della spiritualità, ma questo non significa che non bisogna essere aperti e dialogici con il mondo circostante. Torniamo da questa parentesi. Quindi parrocchia, scuola, casa, che accoglie, il cortile, luogo dell'incontro dell'allegria. Il cortile è tipicamente un luogo oratoriano. E la casa, anche qui, mi sembra che è un principio che è il principio integrale, che crea sintesi. La scuola, la parrocchia e il cortile funzionano all'interno di una casa che accoglie, che quindi deve essere aperta. E l'ultimo passaggio a un livello magari concreto di intervento potrebbe essere anche questo di un'applicazione e la presenza dell'educazione salesiana in contesti plurireligiosi, pluriculturali. E quindi sempre un'apertura al dialogo, alla collaborazione con le diverse tradizioni religiose. E quindi il quadro di riferimento non offre un modello preciso che si può applicare con tutti i dettagli in tutti i luoghi del mondo. Questa era ancora la logica degli anni, diciamo, 30-40. Un po' alcune lettere, alcune sintesi e libri, anche abbastanza dettagliate, lunghe di Pietro Ricaldone, ricordano l'idea più uniforme dell'educazione salesiana. Adesso è ovvio, anche con la diffusione dell'educazione salesiana, che il rispetto del contesto va preso sul serio. E quindi in questo senso ci sono diverse modalità concrete di lavoro. Questo chiaramente ci dà la libertà di inculturare il sistema preventivo, la pastorale giovanile, ma dall'altro è più esigente, esige più intelligenza, discernimento e capacità anche di progettazione. E quindi qui potremmo vedere alcune corrispondenze, no? Quindi l'amorevolezza che è la modalità tipica di funzionare. Nella pedagogia salesiana, il metodo, tutto alimentato da una religiosità, la spiritualità seria che forma un'identità degli educatori. E poi gestione anche degli ambienti, dei programmi e dei progetti, con molta ragionevolezza e anche buonsenso, però anche un senso del dovere. E poi le concrete situazioni. Qui va ricordato anche il primo capitolo del quadro di riferimento, che parla proprio del abitare il mondo dei giovani, essere al contatto con la situazione, perché non basta avere una intelligenza pastorale di cui abbiamo parlato. L'intelligenza deve incarnarsi nelle situazioni concrete, avere dei linguaggi perché uno possa anche animare una comunità, deve abitare con le persone. Quindi questo sarebbe il quinto capitolo sulla comunità, quindi il sistema preventivo come pedagogia e come spiritualità, ispirazione per una comunità che poi vive insieme, comunità educativa pastorale, con un principio di familiarità, uno spirito di famiglia, tutti questi principi. L'identità dell'educatore, esistenza di una comunità, gli ambienti e le culture, tutto permeato di un senso di appartenenza. E abbiamo poi il capitolo sesto, che è il progetto educativo pastorale salesiano, come un strumento anche operativo, che ha delle dimensioni che ovviamente richiamano anche questi tre famosi principi. Vediamo un po'. C'è quindi ragione, amorevolezza, religione e ci sono alcuni, adesso facciamoli vedere tutti, c'è il criterio oratoriano che si concretizza, così creiamo sempre più sintesi. C'è la religione, che è il principio fondante di quasi iconico per una parrocchia salesiana. L'amorevolezza e il cortile, amorevolezza e il principio, proprio ricordiamoci la lettera da Roma, con l'icona del cortile dove si vive di più. Ragione, scuola e la casa che accoglie con la dimensione delle vocazioni apostoliche. Quindi vediamo alcune sintesi, questi quadrati in verde, sono proprio presi dalle pagine concrete del quadro di riferimento, perché spiegano tutte le sintesi con i numeri, creano un riferimento alle diverse dimensioni del progetto. La prima, educazione alla fede, dice così il quadro, non è possibile se essa non diventa un percorso educativo e culturale, richiama l'educazione e cultura, che coinvolga la dimensione relazionale associativa della persona, associatività, la quale solo in questo momento potrà scoprire ed orientare la propria vita al suo compimento, dimensione della vocazione. Quindi la religione, poi c'è l'amorevolezza e quindi le relazioni personali e associative in cui viviamo. Quindi la dimensione della vita associativa sono mere vicinanze fisiche, se non sono in qualche modo incorporate in una maturazione personale e culturale piena, la dimensione educativo-culturale ragiona, se non sono più involte nel proprio progetto di vita-vocazione e non trovano nell'evangelizzazione la propria definizione di relazioni d'amore e quindi un'ispirazione profonda di fede delle relazioni. Non è solamente un'accettazione a livello molto liberale di una tolleranza tra di noi o un'educazione funzionale a un inserimento nel mondo lavorativo o civile, c'è una dimensione più profonda. Quindi abbiamo poi un percorso che è educativo-culturale, l'altra dimensione resta senza maturazione, ossia senza verità antropologica di riferimento, se esso non si ispira all'idea di uomo che l'evangelizzazione illumina. Educazione-evangelizzazione, le sintesi potconciliari ritornano. Inoltre non consegue il proprio obiettivo se non coinvolge la persona tenendo conto di tutte le sue relazioni, quindi educazione in comunità, ed è l'obiettivo di compiere la propria vita secondo un preciso progetto orientativo dell'esistenza, vocazione. E poi tutto quel principio di una casa che accoglie, che anche nelle costituzioni salesiane è l'ambiente preventivo, che è generatore di vocazioni. La dimensione vocazionale in questo senso orienta tutto il nostro cammino, è sintetica ed è trasversale. E qui possiamo anche, se vi ricordate, vedere alcune anche applicazioni sulla progettazione dei percorsi vocazionali, che non è stata facile nel postconcilio. Da un lato trascurata, dall'altro anche enfatizzata onnipresente, qualunque realtà diventava vocazione alla vita, vocazione alla vita di fede, vocazione all'apostolato, alla missione, vocazione ad essere nel carisma salesiano. Tante questioni che andrebbero approfondite, però la realtà è, penso che si può riassumere in un, anche questa illustrazione grafica di trasversalità della dimensione vocazionale, che è emersa molto poi anche dopo il sinodo dei giovani, negli ultimi anni. Quindi la dimensione vocazionale orienta tutto il nostro cammino, è incomprensibile senza riferimento a Cristo, ovviamente, evangelizzazione, se non incide sulle relazioni che ognuno ha nella propria vita, vita associativa, e se non diventa il senso e il fine della propria formazione culturale ed educativa. E quindi abbiamo, questa è come una prima realtà trasversale del progetto educativo pastorale. E il quadro dà anche altri livelli. facciamo vedere tutti. Quindi questa che abbiamo già detto, animazione delle vocazioni apostoliche, centra con la dimensione sia culturale che dell'evangelizzazione e della vita associativa. Animazione missionaria del volontariato anche. È una parte integrante del carisma, il non fermarsi a casa propria, ma proprio questo. Uscire non solo nelle periferie della propria città, ma anche più in là. È una... non è solo il uscire fisico, ma anche uscire mentale, di abitare il mondo largo e grande. La comunicazione sociale, anche, che ha tutte le dimensioni. È il movimento giovanile salesiano. Tutte queste sono le realtà trasversali del progetto educativo pastorale salesiano, con le pagine di riferimento. E quindi potremmo vedere così il sistema preventivo di Rombosco con i suoi termini, che poi si traduce in un'identità di una comunità, che vive una missione, e lo realizza attraverso il progetto, che è strumento operativo, in quattro dimensioni, che richiamano anche la concretezza del sistema preventivo, almeno in linea di massima. L'ultima parte del quadro di riferimento della pastorale giovanile salesiana parla della progettazione dei passi e del metodo di come arrivare a un progetto educativo pastorale salesiano concreto. Perché non basta fermarsi sul capitolo 6, che dice in globale il progetto educativo pastorale. Potremmo vedere che poi ci sono anche delle logiche che sono, che stanno un po' a fondo della progettazione, che sia la differenziazione mondiale dei contesti multireligiosi, multiculturali, che anche un modello di animazione di governo che è postconciliare. Siamo passati da un coordinamento diretto, da Torino si coordinava più o meno tutta la congregazione. Non c'erano le regioni, la logica della decentralizzazione non era così forte. E quindi questo decentramento è operatività, è piuttosto come vediamo in questo schema B. Quindi c'è un centro che anima da dei principi, che poi ci sono delle regioni, ci sono delle ispettorie, le case, le comunità concrete e l'attività singola. E quindi è uno stile che si tramanda, stile e spirito è lo stesso, i valori e i criteri anche, ma le concretizzazioni sono differenti una dall'altra. E quindi progettazione non è solo pensare un strumento operativo, ma di avviare dei processi, avere un'identità. E per questo motivo vorrei, nella proposta di progetto, quasi imitare questa struttura. Quindi il sistema preventivo di Don Bosco. E' quel modo di pensare l'educazione che da una situazione vuole portare i giovani verso un ideale. Può essere la sintesi del buon cristiano onesto cittadino, a grandi linee. Un ideale più pensato in una modalità un po' più concreta, quindi le quattro dimensioni del progetto. Ideale è la situazione. Quello spazio in mezzo si può gestire anche a livello di interventi concreti, però a volte intervento non basta. Le questioni sono più profonde e allora bisogna scegliere un altro approccio, scendere a livello magari di un'analisi anche razionale, di un approccio, una progettazione che sia razionalo-operativa. Poi ci sono altri approcci che anche vanno a un livello di paradigmi, dei rapporti, le dinamiche, di gruppo, della comunità educativo-pastorale. E infine c'è la parte proprio dell'identità. E quindi il metodo della progettazione rispecchia questi livelli di lettura. Per non andare a spiegare solo la teoria, vorrei partire con un progetto concreto che abbiamo... Adesso non andrò a raccontare tutti gli aspetti concreti, però ho un'esperienza pilota con il Borgo Don Bosco, qui a Roma, in via Prenestina, con loro e con la comunità educativa-pastorale abbiamo fatto un percorso di anche diversi mesi, anni, ha durato, di una progettazione trasformativa e virtuosa. Quindi si parte proprio da un radicamento nella situazione, nel territorio. E quindi si fa proprio una lettura e un'analisi della situazione, come il mondo giovanile, degli adolescenti, dei giovani, famiglie, lavoro, un po' come si vive la fede nel territorio, altre sfide. Abbiamo fatto anche una lettura che era sociale, una lettura anche più educativa. Adesso chiaramente non vado ad approfondire le scelte concrete, perché sarebbe spiegare un percorso di due anni. Dopo la situazione, però, non basta accogliere le sfide, perché queste ci sono, e ci sarebbero anche di più se avessimo invitato altri esperti a leggere la situazione. È necessario interpretare la situazione, già non solo che cosa c'è che non va o chiede la nostra attenzione, ma perché è così, quali sono le radici, quali sono i modi di agire e di pensare che in qualche modo hanno a che fare, che sono come radici, che sono a fondo di quella situazione che c'è. Chiaramente qui, nell'interpretazione che abbiamo fatto con il metodo del World Café, quindi a tavoli, a gruppi, per favorire anche, non solo discussioni parallele nei sottogruppi, o per settori, quindi non solo oratorio a sé, nel centro di formazione professionale, o il centro di attività sociali a sé, ma tutti un po' in un'interazione. È venuto fuori uno schema anche ancora complesso di alcuni elementi che sono più le sfide del territorio, sfide del mondo giovanile, i giovani adulti, come una categoria anche nuova, e poi anche, perché non bastano, non basta un'analisi, interpretazione delle sfide del mondo giovanile, ci vuole anche un'analisi di come funzioniamo tra noi, relazionalmente, nella comunità educativa pastorale, che cosa manca, come ci stiamo accogliendo, umiltà, fiducia, relazioni, e anche un discorso di formazione, come ci stiamo formando, anche per arrivare a dei valori fondanti. Chi siamo? Riscoprire la vocazione della casa in sé, perché? situazione viene interpretata, però alla fine quello che è importante è il discernimento, quel processo che ci porta a rispondere a quelle domande fondamentali. Chi sono io in questa comunità e che cosa faccio? Che cosa sono chiamato ad essere, a fare? E quindi abbiamo poi fatto un percorso di discernimento. Prima c'era un ritiro spirituale, un discernimento personale, e poi un discernimento comunitario, per arrivare anche ad alcuni aspetti, che erano poi, li abbiamo messi in questa icona dell'albero, quindi che erano proprio le sfide fondamentali, che siamo chiamati ad approfondire il primato di Dio, le radici forti, poi di avviare con più decisione gli aspetti dell'accompagnamento personale, per creare una comunità che porta dei frutti anche nel territorio. Quindi quattro aspetti fondamentali della chiamata, che poi si integrano bene anche in quest'icona. E quindi il discernimento che è una spinta, è una vocazione dello spirito che parla nella situazione, però non è ovvio nella situazione, perché poi le interpretazioni sono diverse. Anche le interpretazioni. bisogna lasciare il tempo che tutto si sedimenta, che si calmi e che si possano leggere le tracce di una chiamata al cambiamento, che non è subito operativa. Per questa ragione, come anche Don Bosco. Don Bosco indica cose operative da fare, fa dei regolamenti. Però non fa solo questo. Dopo la scoperta della sua chiamata, ci sono anche molte narrazioni. C'è un visionamento, c'è un'espressione più narrativa di questa chiamata al cambiamento. Noi abbiamo scelto anche questo romanzo attraverso un filmato breve che esprime questa idea dell'albero che sta crescendo attorno a un racconto che è conosciuto, bello, simbolico anche. E quindi la chiamata al cambiamento diventa una visione nella quale ci ritroviamo ed è buono che sia una visione attorno a un'icona, un'immagine, qualcosa di coinvolgente, narrativo, che si possa avere in mente. Quelle immagini dell'albero con le quattro parti si ricordano. Se avessimo scelto subito una ventina di obiettivi complessi penso che non saremmo arrivati. E quindi il progetto esige questo processo lento di chiarimento, di approfondimenti, e adesso l'ultima parte è il progetto operativo. E quindi ognuno degli ambiti veniva concretizzato in questa modalità. Come esempio ho preso l'attenzione al territorio. Quindi c'è un obiettivo chiaro, educare e sviluppare una cittadinanza attiva, che poi si concretizza attraverso processi che sono elencati e interventi. E quindi ogni anno poi ha un'attenzione particolare a uno dei quattro obiettivi e si seguono dei processi e si seguono anche la realizzazione degli interventi. Perché la parte operativa è sempre importante. Quindi non è all'inizio la parte operativa, progettazione operativa, è bello averla in mente durante il processo, però non è solo quella. Perché chi va troppo in fretta dalla situazione alla progettazione operativa e non si dà il tempo ad approfondire, spesso alla fine ripete, magari cambia attività, cambia calendario, però alla fine la mentalità è la stessa. Per questo progettazione trasformativa che esige non solamente dei passaggi, quello che abbiamo descritto, no? Situazione, interpretazione in comunità, vocazione al cambiamento, visione e progettazione operativa. Questo sarebbe uno schema di intervento diverso che però deve essere sostenuto da una identità diversa che esige degli atteggiamenti meglio dir tu. E quindi a livello di mentalità, di fede, di fede che sa leggere dentro le situazioni, che sta a fondamento del discernimento, poi a livello anche di una ricerca, del perché, della chiamata, in funzione anche di una speranza per il futuro. La chiamata non è solo chiamata a fare degli interventi precisi, la chiamata è di aprire un orizzonte di speranza, anche che è molto attuale in questo nostro mondo postmoderno che ha perso i riferimenti. E quindi un riferimento al futuro di una promessa, di una garanzia che si radica anche in un passato, di un carisma è proprio bello. E poi chiaramente si arriva a un'operatività, che però non è solo un management dei progetti a livello di efficacia operativa. C'è anche una operatività, però tutto è permeato dalla carità. Questo è il nostro modo di realizzare la missione, se è veramente comunitario e radicato nella virtù della carità. E quindi questo modello poi ha alimentato anche questo concreto progetto. E quindi quasi è una riproposizione del sistema preventivo e della pastorale giovanile salesiana in una logica operativa, in una situazione concreta. E quindi potremo vedere così questo percorso del quadro di riferimento. Ci sono antecedenti che va bene tenere in mente, che ci spiegano le situazioni. C'è la parte fondante dei tre capitoli e c'è la parte poi di come si prende questo quadro di riferimento come luce su delle situazioni concrete che vanno interpretate alla luce, per esempio del capitolo 6, ovviamente, sul PEPS come strumento operativo. Va fatto un discernimento profondo, visionamento che è molto concreto, sempre in una cultura e un contesto concreto e poi un progetto operativo. Quindi grazie per la vostra attenzione. penso che con questo video concludiamo anche il nostro percorso di pedagogia salesiana, che non è estranea alla pastorale giovanile salesiana, no? E quindi grazie per l'attenzione, anche per la condivisione di questo percorso e buon apprendimento. Alla prossima. Vedremo quando sarà.